Grazie a tutti, abbiamo molti interventi, abbiamo molte attesioni. Mi chiede bene che cominciamo anche con un po' di ritardo. Sempre nei buchi tu, eh? Mattie, questa è anche personalizzata. Ah, è vero. I nostri cittadini diciamo che è cambiata quest'opera, quest'opera adesso tiene presente le problematiche del territorio. In realtà quello del 2005 non era mai stato cifrato, perché gli attraversamenti, gli arrivi a me, gli arrivi a me, gli arrivi a me, ma era tutto in galleria, era tutto in galleria anche il precedente. E' stata una grande manifestazione di minoranza che, ripeto, non può pretendere di esercitare un diritto libero. E' stata una grande manifestazione di minoranza che, ripeto, non può pretendere di esercitare un diritto libero. Lei è in qualche modo, non può pretendere di esercitare un diritto libero? E' stata una grande manifestazione! Ma la gar 달� pamålla è la grande manifestazione di minoranza che mostra in mancazione liber puerta' Grazie a tutti. Grazie a tutti.